La notte ti somiglia Diciamo che questa è la prima esperienza che facciamo nel campo della moda, del stilistico quindi spero che vada bene perché ne seguiranno altre iniziative fino adesso ci siamo dedicati molto all'artigianato creativo, artistico e dell'artistico facciamo molte iniziative sociali, culturali e tutto ciò che facciamo lo facciamo senza finanziamenti né pubblici né privati, quindi tutto è pagato dagli associati La particolarità in due parole di questa serata è soprattutto cos'è per lei la sicilianità? Allora noi abbiamo parlato dando un'impostazione sulla sicilianità lasciando libere però le stiliste nella loro interpretazione però all'interno della sicilianità c'è anche l'accoglienza quindi il rispetto anche di coloro che vengono che rispetto alle loro tradizioni e l'integrazione quindi integrazione, rispetto alle tradizioni e accoglienza quindi in questa manifestazione ci sono queste caratteristiche e del resto rispetto al nostro essere siciliano insomma non potevano mancare quindi non potevamo fare soltanto siamo al centro del Mediterraneo abbiamo una lunghissima storia di accoglienze e di integrazione quindi è giusto che vengali tra l'altro fanno parte dell'associazione dell'associazione